Il paese degli scalpellini è conosciuto così Sant'Ippolito, centro di circa 1400 abitanti della provincia di Pesaro. Munito di scalpello, martello, mazzuolo, carta vetrata e tanto olio di gomito, lo scalpellino realizza opere modellando la pietra arenaria. Qui la tradizione antica, i primi artisti erano attivi già nel 300. Tutto nacque con Aimonetto, che era operativo nella sede papale di Avignone. Negli anni Sant'Ippolito si è arricchita di residenti sempre più prestigiosi che hanno iniziato a commissionare pregiate opere. Il massimo splendore si è raggiunto sotto il dominio del duca Federico da Montefeltro. La scalpellina più famosa è lei, Natalia Gasparrucci, da oltre 30 anni fa questo lavoro a una sua bottega nel centro del paese, ha alle spalle prestigiosi riconoscimenti e le sue opere si trovano in lungo e in largo nel continente europeo. Essendo autodidatta non avevo le basi, però io di sera studiavo e ho cominciato a scoprire. Ci ho messo tanta volontà e oltre alla tradizione naturalmente alle madonnine, madonne lauretane, eseguo anche portali, opere per l'edilizia e un po' di tutto. Mando avanti la tradizione di questa zona, la Valle del Metauro, che è un tempo i vecchi scalpellini, quando purtroppo non ebbero più opere importanti da eseguire, e hanno cominciato a dire adesso cosa mangiamo. Allora, in cambio di un sacco di grano, di farina, cose di questo tipo, qualche scudo, hanno cominciato a eseguire la Madonna di Loreto, non ha le proporzioni e poi la madonnina veniva posta nella facciata della casa per salutare il viandante che un tempo andava con i calessi. Il paese vuol valorizzare quest'arte e tramandarla, per questo da anni si tiene un apposito corso tenuto dai maestri scalpellini. Questo corso è iniziato tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, grazie al presidente di allora, Alba Michelini, che aveva ideato questo fantastico corso. Abbiamo avuto un riscontro molto importante quest'anno e siamo veramente fieri e soddisfatti di questo risultato che ogni anno cercheremo di amplificare e pubblicizzare al meglio possibile.